Benvenuti al nostro video di astrologia di oggi. Oroscopo Weekend Paolo Fox, previsioni di sabato e domenica, 27 e 28 maggio 2023. Come andrà il fine settimana? Scopri quali sono i segni fortunati e le previsioni astrologiche per un fine settimana di successi e felicità. L'oroscopo del segno ariete. Questa è stata una settimana impegnativa per i nostri amici dell'ariete, ci sono diversi lavori in vista, molte responsabilità e nuovi progetti per l'estate. Tuttavia, c'è una buona notizia, potrete rilassarvi e godervi il tempo con la famiglia e gli amici. Il relax è il motto del fine settimana, e probabilmente state pregustando una bella giornata in spiaggia. D'altra parte, siete determinati e non avete intenzione di arrendervi. Non certo ora che il cielo vi sorride. Questo fine settimana si prospetta molto positivo per l'ariete. L'energia cosmica favorisce l'equilibrio tra lavoro e vita personale. Potreste ottenere successo e riconoscimento nella vostra carriera. Sfruttate al massimo le opportunità che si presentano. Sarai pieno di energia e passione, pronto a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno sulla tua strada. La tua determinazione ti porterà grandi risultati in ambito professionale, mentre in amore potresti vivere momenti intensi e romantici. Approfitta di questo periodo favorevole per realizzare i tuoi desideri. L'oroscopo del segno toro. Questa settimana sarà un po' impegnativa e a volte diventerete rigidi, polemici e inflessibili. E questo è un peccato. Ma nel weekend le occasioni non mancheranno, saprete coglierle tutte al volo? Anche l'amore vi sorride, e dovete solo lasciarvi andare alla passione che c'è in giro. E sarete fortunati se li incontrerete. Il toro potrebbe affrontare qualche difficoltà durante questo fine settimana. È importante mantenere la calma e affrontare le situazioni con pazienza. Non lasciatevi abbattere dalle sfide e cercate soluzioni creative per superarle. I nativi del toro possono aspettarsi un fine settimana all'insegna del relax e del benessere. È il momento ideale per dedicarti a te stesso e ricaricare le energie. Fai attenzione alla tua salute e cerca di concederti qualche momento di svago. In amore, potresti ricevere una piacevole sorpresa che renderà il tuo fine settimana ancora più speciale. L'oroscopo del segno gemelli. L'ultima settimana di maggio prima dell'inizio di giugno è stata sicuramente divertente e gioiosa per voi. E le nuove opportunità non sono mancate. Tuttavia, Paolo Fox vi consiglia di prendervi una pausa nel fine settimana. I gemelli saranno particolarmente attivi durante questo fine settimana. L'energia astrale favorisce nuove opportunità di apprendimento e crescita personale. Siate pronti a cogliere al volo queste occasioni e mettete in pratica le vostre idee innovative. Per i gemelli, il fine settimana sarà caratterizzato da nuove opportunità e incontri interessanti. La tua comunicazione sarà al massimo e riuscirai a esprimere al meglio le tue idee. Sul fronte amoroso, potresti vivere un momento di complicità e intesa con il tuo partner. Non lasciarti sfuggire le occasioni che si presenteranno, potrebbero portarti grandi soddisfazioni. L'oroscopo del segno cancro. Questa settimana siete stati più sensibili del solito e avete vissuto emozioni molto forti in amore. Anche sul lavoro. Insomma, avete dovuto affrontare molte questioni e ora, sabato e domenica, vorrete staccare la spina dalla routine quotidiana. L'energia non manca. E non manca nemmeno la creatività. Il fine settimana potrebbe portare qualche incertezza per il cancro. Evitate di prendere decisioni affrittate e cercate di ascoltare il vostro istinto. Concentratevi sulle relazioni personali e cercate di risolvere eventuali conflitti in modo pacifico. Potresti sentirti incline a dedicare del tempo alla tua famiglia e ai tuoi cari. Sii aperto alle opportunità di crescita personale e cerca di affrontare eventuali sfide con pazienza e determinazione. Non trascurare le tue esigenze emotive e cerca un equilibrio tra lavoro e vita personale. L'oroscopo del segno leone. Questa settimana avete dovuto affrontare parecchie sfide e ostacoli, quindi i problemi non sono ancora tutti risolti. Tuttavia, nel fine settimana non dovrete pensarci. I vostri sforzi saranno ripagati prima o poi. L'amore è in forma e sarete fortunati ad incontrare qualcuno. I leone avranno un fine settimana ricco di energia positiva. Potreste sperimentare una maggiore sicurezza in voi stessi e attirare l'attenzione degli altri. Approfittate di questo periodo per mettere in mostra le vostre capacità e realizzare i vostri obiettivi. Il fine settimana sarà l'insegna del successo e della realizzazione personale per i nativi del leone. Approfitta di questo momento per mettere in pratica i tuoi progetti e raggiungere i tuoi obiettivi. Sfrutta al massimo le tue capacità e competenze, mettendole al servizio dei tuoi obiettivi. Potresti ricevere riconoscimenti o opportunità di leadership che ti consentono di brillare. Mantieni una mentalità positiva e fiduciosa, perché il tuo potenziale è illimitato. L'oroscopo del segno vergine. Dopo aver fatto molti sacrifici questa settimana, avete fatto i conti con un bel cambiamento e le cose stanno andando in una direzione diversa, proprio come sognavate prima. Anche il fine settimana è positivo, ma dovrete mantenere la calma perché qualcuno cercherà di ostacolarvi. Dovete fare le cose per bene. Anche in amore e al lavoro. La vergine potrebbe affrontare alcune sfide durante questo fine settimana. È importante mantenere la calma e adottare un approccio pratico per risolvere i problemi. Fate attenzione alla vostra salute e cercate di trovare un equilibrio tra lavoro e riposo. Dedica del tempo alla meditazione o alle attività che ti rilassano. Potresti avere delle intuizioni importanti riguardo a una questione personale o professionale. Sfrutta questa energia positiva per pianificare i tuoi obiettivi futuri. L'oroscopo del segno bilangia. Questa settimana è stata dura sia in amore che al lavoro. Alcuni di voi stanno già pensando di partire, mentre altri vogliono solo passare del tempo con la persona che amano. Questo fine settimana porterà un sorriso sul viso dei nati sotto il segno della bilancia. La bilancia si trova in un periodo favorevole durante questo fine settimana. L'energia astrale promuove l'armonia nelle relazioni e la ricerca dell'equilibrio interiore. Approfittate di questo momento per prendervi cura di voi stessi e per rafforzare i legami affettivi. La bilancia sarà protagonista di un fine settimana di armonia e serenità. Cerca di bilanciare le diverse sfere della tua vita, dedicando tempo sia alle relazioni che ai tuoi interessi personali. Potresti essere chiamato a mediare o a risolvere conflitti, quindi sii diplomatico e cerca un compromesso equilibrato. Coltiva l'amore e la bellezza intorno a te, perché ciò ti porterà gioia e felicità. L'oroscopo del segno scorpione. Questa settimana non è iniziata nel migliore dei modi, le cose sono andate un po' a rilento, ma avete saputo aspettare e pazientare. Il weekend di sabato 27 e domenica 28 maggio è all'insegna della vita. E lasciatevi alle spalle i pensieri, dateci dentro. Lo scorpione potrebbe sperimentare una certa intensità emotiva durante questo fine settimana. È importante gestire le emozioni in modo equilibrato e evitare conflitti inutili. Concentratevi sulla vostra crescita personale e cercate di approfondire la vostra conoscenza interiore. Gli scorpioni potrebbero vivere un fine settimana intenso e appassionato. Potresti sentire un'energia magnetica che ti spinge verso le persone e le situazioni che ti interessano. Sii aperto all'amore e all'esplorazione delle tue passioni. Tieni a mente di mantenere un equilibrio tra la tua intensità emotiva e la razionalità nelle decisioni importanti. L'oroscopo del segno sagittario. C'è molta attenzione su di voi e sulla vostra personalità, che per molto tempo è stata lontana dai riflettori. Anche nel fine settimana non vorrete stare da soli. Le persone che vi amano sono lì per voi e non possono fare a meno della vostra positività. Tutto sommato, niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Evitate di prendere decisioni affrittate e cercate di concentrarvi sulle opportunità a lungo termine. Mantenete un atteggiamento positivo e sfruttate le vostre risorse interne per superare eventuali ostacoli. Il fine settimana porterà avventure e nuove esperienze per i sagittario. Sentirai il desiderio di espandere i tuoi orizzonti e di provare cose nuove. Prendi l'iniziativa nel cercare opportunità di crescita personale e professionale. Potresti fare incontri significativi o avere conversazioni stimolanti che aprono nuove porte per te. L'oroscopo del segno capricorno. L'inizio della settimana è stato un po' impegnativo e avete dovuto affrontare un po' di cambiamenti. Tuttavia, non avete paura di nulla e state affrontando le cose con coraggio. Nel fine settimana, però, cercate di rimanere calmi e seri ed evitate di commettere errori. Inoltre, concedetevi una pausa e liberatevi per l'amore. Sfruttate questa energia per perseguire i vostri obiettivi e raggiungere il successo. Tuttavia, fate attenzione a non trascurare i vostri bisogni personali e a trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata. I capricorno potrebbero concentrarsi sulle questioni finanziarie e lavorative durante il fine settimana. È il momento di valutare attentamente i tuoi investimenti e fare piani a lungo termine per la tua carriera. Potresti ricevere una proposta interessante o ottenere riconoscimenti per il tuo lavoro. Non trascurare le relazioni personali e cerca di dedicare del tempo alla tua vita sociale. L'oroscopo del segno acquario. Questa settimana sei stato un po' frastornato, quasi timoroso di avvicinarti alle persone per paura delle illusioni. Ma ora è il momento di prendere una decisione e fare una scelta. E il coraggio sarà il vostro motto nell'ultimo weekend di maggio. L'acquario si trova in un momento positivo durante questo fine settimana. L'energia cosmica favorisce la creatività e l'innovazione. Siate aperti a nuove idee e sperimentate nuovi approcci nella vostra vita. Approfittate di questo periodo per coltivare le relazioni sociali e per esprimere la vostra autenticità. Il fine settimana potrebbe portare nuove opportunità ed esperienze per gli acquario. Sii aperto al cambiamento e non temere di esplorare territori nuovi. Potresti fare delle scoperte significative su te stesso e sulle tue ambizioni. Mantieni una mente aperta e segui la tua intuizione. Potresti trovare delle risposte importanti per il tuo percorso. L'oroscopo del segno pesci. La creatività non manca, come sempre, e voi rimanete sempre voi stessi. Con i vostri pregi e difetti. Ma questo fine settimana non lasciatevi ingannare dagli altri, avete un progetto? Se avete un progetto, concentratevi solo su voi stessi e andate avanti. E concentratevi sulle priorità. Mantenete una prospettiva positiva e cercate di focalizzarvi sui vostri obiettivi. L'empatia e la sensibilità saranno le vostre forze guida. Siate gentili con voi stessi e con gli altri. Dedica del tempo alle attività artistiche che ami e permetti alle tue emozioni di fluire liberamente. Sia attento alle intuizioni e alle sincronicità che potrebbero portarti verso nuove direzioni. Coltiva le tue relazioni più importanti e cerca di trascorrere del tempo di qualità con i tuoi cari. Grazie per aver guardato il nostro video sull'oroscopo. Se ti è piaciuto, per favore lascia un like e iscriviti al canale. Grazie mille.